Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, al termine della riunione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, ha stabilito nuovi provvedimenti per la città. Da sabato 7 al lunedì 16 novembre resteranno interdette al pubblico la passeggiata del lungomare Pertini, il tratto pedonale che circonda il lago d'Averno, la darsena, limitatamente al perimetro dello specchio d'acqua e la villetta di Lucrino adiacente alla piscina comunale. Chiusi anche i centri sociali per anziani e tutti gli impianti sportivi pubblici e privati ad eccezione di quelli utilizzati per le attività professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche di livello nazionale. Modificati inoltre gli orari di apertura dei parcheggi comunali, quelli del molo caligoliano e del mercato ittico all'ingrosso chiuderanno tutti i giorni alle 20 e 30, tranne la domenica che saranno interdetti dalle 18 e 30. Il multipiano invece resterà aperto tutti i giorni solo dalle 12 alle 18 e 30. Tra i provvedimenti adottati infine la proroga della chiusura al pubblico degli uffici comunali, sempre fino al 16 novembre, tranne che per i servizi essenziali.